Ed eccoci qua tornati, ragazzi, con questo nuovo episodio ed entriamo. Non ti muovere, potrebbe fare un po' male. Siamo pronti. Per prima cosa devo avere la tua anima. Fa un respiro profondo. Ah, i miei discepoli mi hanno inviato un'anima pura. Bene, iniziavo a essere affamato. Aspetta, c'è qualcosa di diverso in te. E chi sei tu per sfidarmi? Ho conquistato la mortalità stessa. Ho sputato negli occhi dei principi daedrici. Ora questo regno è mio. Ho sacrificato troppo per permetterti di strapparmelo. Ficata. Bellissimo. Non vado a essere scudi. No, non vado a essere scudi. Ah, non vado a essere scudi. Oh, level up. Lol. Eh, questa mina ne abbiamo poca. Ah, c'è un coraggio che... Dora. Ok. 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 Siamo pronti per... Siamo pronti per l'arrivo. Oh, qua. Oh, magari... Questo. Dov'è? Ah! Bene, in teoria l'ho perso. Dov'è cavolo è? Non va più. Ragazzi! Ah! No. Mi devo curare solo il ticino. Solo staminio. 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 Casperity. gefbretta in regionale. E alas … ... ... C'è qualcosa qui? Non sarà molto ma almeno Dove creare nuove Cosa? 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 No! Gli incantamenti di mali ne sono spezzati. Resisti. Tirerò fuori la tua anima da lì. Preparati. È andato. È andato, ragazzi. È finita. Cosa? Calma, calma. Vedrai che ti riprenderai presto. Cerca di non sforzarti. Ce l'abbiamo fatta. La stella è stata separata da Asura e finalmente l'anima di Malin ha trovato la pace, seppure nella non esistenza. Va bene. Che cosa facciamo? Potresti usarla secondo il progetto originale. Utilizzare anime nere per incantarla. La stella nera non verrà mai meno, ma non potrà più trattenere le anime bianche delle creature nere. Tieni la tua. Io voglio soltanto lasciarmi tutto questo alle spalle. Congratulazioni. Hai mutato il destino di un manufatto da Edrico e sei ancora in vita. Bene. No, no per gli dei, da molti anni. Ho lasciato Winterhall per qualche tempo, poi sono tornato a vivere alla Locanda. Ok. Bene. È finita. Giusto? Sì, è finita. Quindi. Allora, evitiamo cavolate e saldiamo. Questa è la missione del museo. Queste sono le leggende proibite del biglietto della mummia. Questo è quello che bisogna andare ad incontrare Delphine a Riverwood per continuare a combattere i draghi che stanno tornando. E qui c'è da trovare la spada Red Eagle. Trovare il pugnale. Trovare la risorsa di potere della cresta di buona ossa. Striumbo. E questo qua a portare l'unuso al gemma tu appriser sarà compratore. Boh. Votate mi raccomando, votate. Questo video, anche se è durato di meno, finisce qua. E... Oddio. E ci sentiamo al prossimo. Ecco, magari così me le sembra anche dove sono. Ok. Come non detto. Ciao, ciao. 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 Grazie.